cari amici vi mando un saluto qui da Bordeaux sono vicino alla grande cattedrale che si trova vicino alla casa che abbiamo preso qui a Bordeaux e siamo di pomeriggio oggi è una bellissima città questo è quello che vi faccio vedere il sistema dei tram che passa per tutta la città ci sono tre linee ed è comodissimo perché passano di continuo e coprono tutta la città e qui questo è il mio figlio che è uscito da scuola saluta e pure per nonna è brava pure per gli amici e fai senti qualche parola in francese e vabbè le stesse dici e saluta gli amici in argentina ciao amici amigos no amici dai vai correndo vai divertiti e questa è una città proprio pensata per i bambini infatti sono moltissime famiglie come sapete in francia c'è una politica familiare molto forte e si vede che è efficace perché ci sono molte famiglie con due o tre bambini e qui c'è il mio delinquente con il monopattico bravo vai vai e qui siamo al centro lì è il municipio della città ecco vai fai un altro giro che andando faccio il filmino io dai e questa è la bellissima cattedrale dove noi veniamo di domenica a messa e lì c'è il delinquente un caro saluto a tutti ciao ciao